dall'Inter al Monza prosegue il periodo intensissimo dello splendido campionato del Grifone si rinnova l'appuntamento con la terrazza di Beppe un caro saluto a Beppe Nutti ciao Beppe, buona settimana ciao Carlo, buona settimana a tutti naturalmente, una settimana che ci porterà a una gara altrettanto importante, anzi forse più importante di quella con l'Inter ne parleremo senz'altro tra qualche minuto la mia intro su cui ti coinvolgo è diciamo un nuovo tipo di mandare segnali, come dice lui di responsabile disapprovazione sto parlando della presidente Alberto Zangrillo che al termine della partita con il Milan all'andata andò davanti alle telecamere delle tv proprio a caldo per esprimere il suo disappunto a distanza quasi di un altro di un girone ci troviamo il presidente a commentare stavolta con il silenzio il suo segnale di responsabile disapprovazione Beppe è cambiato il modo di mandare i segnali ma guarda è un segnale ancora più forte più forte di di quanto uno possa sfogarsi davanti a una telecamera dopo una partita il fatto di lasciare al 37esimo lui e il suo diciamo così gruppo di dirigenti San Siro e andando a salutare facendo i complimenti sia la squadra sia i tifosi 5.000 tifosi a San Siro ci sono fatti sentire mentre diciamo che gli interisti negli ultimi 10 minuti sono spariti completamente perché il Genoa stava giocando una grande partita e in Zaglia mettersi al pareggio per loro con il pareggio del Genoa detto questo è stata una dimostrazione importante Zangrillo è un uomo molto intelligente è una persona veramente capace conosce il calcio e conosce anche i meccanismi di quello che c'è dietro al calcio io parlo per me purtroppo quello che ho visto domenica mi fa pensare che la tecnologia non possiamo far meno di la tecnologia perché noi siamo in questo momento nella tecnologia siamo in diretta dobbiamo guardare sempre al futuro però se il VAR il Video Assistant Referee diventa diventa quello che decide al 20% e all'80% sbaglia devo dire che allora era meglio quando andava peggio perché perché dico questo dico perché non si può assolutamente pensare ecco questa è una cosa grave che si è vista non si può pensare l'arbitro ha visto il calcio di rigore non c'era assolutamente perché abbiamo visto tutti che Varello aveva tirato e comunque noi ci eravamo accorti del tocco appunto su Fendrup che Fendrup aveva toccato per primo il pallone però stranamente per 20 minuti non si è saputo niente una televisione diceva che non era rigore l'altra televisione diceva parla a livello nazionale che era rigore poi stranamente viene fuori questo frame questa immagine che ti dimostra chiaramente che Fendrup colpisce il pallone oltretutto prima di tutto non andava neanche accondato il calcio di rigore perché comunque Varello aveva calciato indipendentemente dal fatto che aveva toccato il pallone secondo mi spieghi perché Fendrup già ammonito peraltro scioccamente in maniera o scientificamente ammonito dopo pochi minuti non è stato espulso non mi dite che non era una chiara occasione da gol quella davanti alla porta era una chiara occasione da gol quindi l'arbitro diciamo così mediocre perché poi c'è da dire anche sull'Inter perché l'ammunizione all'autaro per quale motivo ma cos'era secondo te quello era un una munizione per simulazione non era niente per dimostrarti che Ayroldi comunque è un mediocre un arbitro mediocre siamo circondati da arbitri mediocre e da VAR che ne stanno combinando di tutti i colori quindi quella che doveva essere la forza che doveva aiutare il calcio sta diventando piano piano un qualcosa di pericoloso nel calcio perché a questo punto veramente quello che è successo poi il Genoa magari poteva perdere anche 5 a 1 5 a 0 non era quello il problema il problema era che queste cose che vengono fuori peraltro Ayroldi ti do questa notizia non arbitrarà più in questo campionato non arbitrarà più in questo campionato te lo dico io addirittura si parlava di due o tre turni invece no ti dico che da fonti quasi certe non arbitrarà più in queste ultime 10-11 partite in Serie A magari in B non lo so però in Serie A non arbitrarà più come d'altronde altri arbitri ma perché arrabbiarsi non tanto perché poi il Genoa ha avuto una reazione stupenda ed io devo dire che vedere la grande colla che ecco la grande mi è stato chiesto mi è stato chiesto dopo la partita ti è piaciuta di più la grande prova di reazione dopo il 2 a 0 che avrebbe ammazzato chiunque il 2 a 0 all'ultimo secondo diciamo del primo tempo torni in campo dici questa prendono imbarcata oppure gli ultimi 10 minuti dove l'Inter ha dovuto mettere in campo tutte le sue forze e non solo cambiare gli esterni cambiare a centrocampo centrocampo l'ha perso completamente non l'ha mai visto un battle gigantesco e con le abbiamo dominati si è visto un Inter con Zinzaghi che diceva andate sulla bandierina tenete tenete la tenete la palla noi contro l'Inter sempre ah tra l'altro un'altra cosa che tu avrai lo saprai benissimo doveri internazionale doveri come arbitro doveri come arbitro internazionale era quello che nella partita d'andata non si accorse dello vistoso spintone su Strotman che era praticamente un calcio di rigore quello a favore del Genoa ed era questa volta al VAR volendo pensare male si può pensare male ma io dato che non voglio ancora del tutto pensare che ci sia della mala fede in questo penso come pensavo 30 anni fa che le squadre con le strisce verticali sono favorite non c'è niente da dire sono squadre che comunque in un modo o nell'altro abbiamo avuto anche dei precedenti non mi venite a dire insomma passaporti falsi situazioni di arbitri schiusi negli spogliatoi cioè adesso non dobbiamo neanche fare troppo i santoni o quelli che dicono che va tutto va sempre bene non va bene non va bene non va bene questo campionato l'Inter lo doveva chiudere l'ha chiuso con i suoi 15 punti praticamente e dedicarsi alla Coppa dei Campioni non a caso i tifosi del Genoa scatenati sui social dicono forza e ciolo perché no questo non lo dico io perché sono sportivo e non voglio dire assolutamente non voglio andare contro le squadre italiane però però è chiaro che è dimostrato come in Italia si come come vadano le cose in Italia come vadano all'estero ecco hai visto la Lazio ieri c'è poco da fare c'è poco da fare tu puoi avere i giocatori che vuoi ma quando vai all'estero poi le prendi non c'è niente poi gli arbitri non sono come qui lasciano giocare non guardano il falletto Barella sembrava stravolto quando è caduto a terra mi spiace perché parliamo di un giocatore che a me piace moltissimo e che è anche forte però non mi piace queste simulazioni queste cose come ricordi del Piero un Juventus Genoa un rigore dato mezzo metro fuori dall'area di rigore forse anche un metro se sei d'accordo che tu pensi agli interessi tuoi però se sei non sportivo se sei un campione devi anche dire no il rigore non c'era io ricordo un bel gesto di Canio che fermò un'azione da gol da gol con West Ham si fermò perché c'era un giocatore avversario a terra insomma ci sono delle dimostrazioni di grande sportività e altre situazioni che invece fanno pensare che il calcio italiano e comunque al di là del calcio italiano e chiudo l'AIA e i varisti o comunque nell'AIA situazione italiana arbitri devono darsi una regolata devono che deve cambiare qualcosa perché assolutamente quest'anno è stato un anno nero nero ma non per il Genoa per tutti perché ci sono passati quasi tutti tranne qualcuno un bel penuti box to box e meno male che sono passate 48 ore da Inter Genoa ti sento caldo come una stufa in montagna insomma no ma 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 stuzzicarti su altre questioni arbitrali come dire che qualcuno non ha visto il tocco di Vasquez su Barella nell'episodio dell'ammunizione ti potrei stuzzicare dicendo ma scusa il Genoa ha avuto 17 falli contro e l'Inter 5 ma ti dico ci piace parlare di Genoa ci piace parlare di calcio no parliamo parliamo sull'arbitro se sei d'accordo sì infatti io mi sono fatto prendere la mano perché non volevo neanche parlarne però è giusto parlare di Genoa il Genoa comunque nelle 12 partite ne ha perse due comunque con l'Atalanta come sappiamo e con l'Inter come sappiamo e comunque due partite che ci possono stare il Genoa adesso deve riprendere il suo cammino le motivazioni ci sono ci sono per tutti c'è un europeo da giocare ci sono tanti giocatori confermati qualcuno che cerca ancora la conferma quindi insomma qualcuno che vorrà rimanere nel Genoa e quindi deve dimostrare di essere da Genoa 33 punti abbiamo adesso una grandissima possibilità proprio abbiamo a biliardo sì abbiamo una bella bocciata nel senso che abbiamo il pallino in mano per fare tre punti col Monza il forte Monza dobbiamo dire di Palladino una bella compagine e quindi andare a 36 e raggiungere l'undicesimo posto e guardare anche al toro di Juric che non mi sembra una squadra di fenomeni e se addirittura facessimo il decimo posto non mi chiedete l'Europa perché qualcuno me l'ha chiesta ma sinceramente adesso non pensiamo troppo in grande certo i sogni sono è bello sognare ma insomma poi ci sono i risvegli quindi bisogna anche pensare che possiamo comunque domenica domenica sabato sera agguantare il Monza e poi pensare anche al Torino e comunque già questa posizione è nell'ambito dei maggiori dei maggiori questa è una statistica che conoscerai anche te immagino ma magari qualcuno non la conosce una statistica che nei maggiori campionati d'Europa il Genoa con i suoi 33 punti al secondo posto delle neopromosse alla cos'era settima ottava giornata di ritorno soltanto l'Alaves con 37 punti gli è davanti tutte le altre squadre sono tutte dietro comprese francesi tedesche inglesi italiane stesse Frosinone Cagliari sono tutte dietro quindi grande girardino devo dire se posso dire la mia ma penso che non sei d'accordo ha dato scacco matto a Inzaghi perché la partita l'ha fatta il Genoa e non l'ha fatta l'Inter l'Inter ha avuto quei dieci minuti quei dieci minuti chiamiamoli di sbantamento un po' del Genoa una situazione un po' così e ha perso la partita lì poi però ti ripeto la reazione mi è piaciuta perché il 2-1 il gran gol nel volo di Vasquez peccato che è squalificato domenica però c'è Vogliacco e insomma ci sono altre situazioni che si possono fare invece ecco parlerai un po' parlerei un po' di cambiamenti se continuare a giocare così o magari provare questo Vitigna che a me è piaciuto molto attenzione un benvenuti in versione fantasista beh intanto c'è da dire che nelle gerarchie di Gilardino Vitigna ha superato Ecuba perché nel momento di un cambio ha messo dentro il portoghese e non Caleb quindi già questa può essere una notizia insomma ti lascio rispondere e poi la seconda questione è questo Malinowski malinconicamente ancora in fondo alla panchina con zero minuti giocati posso darti ragione su tutto che si gioca in undici bla 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 però fondamentalmente mi spiace moltissimo mi spiace anche a me però bisogna assolutamente capire anche Girardino gioca bene a Napoli Messias si conferma con l'Udinese è chiaro che meritava una conferma anche perché bisogna capire su questo giocatore se possiamo contarci o meno ha avuto parecchi infortuni Malinowski spiace sì spiace però i tre di centrocampo proprio ideali scusa ma negli ultimi 20 minuti un Badel sostituito per Malinowski un Badel penso in fase calante perché ha 35 anni e quindi gioca una grandissima ora di calcio però almeno a mio parere nell'ultima mezz'ora cala abbastanza vistosamente sarebbe stata una bestemmia calcistica no 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 sono d'accordo con te come anche modificato con Gudmusson diciamo all'esterno sinistro quasi mezz'ala all'esterno sinistro con Vitigna e Derretegui no si possono fare anche delle sostituzioni però Ty Fendrup era il giocatore Fendrup purtroppo ha pagato un po' in questa partita perché ha monito poi si sentiva colpevole di una cosa che non ha fatto non mi è parso il Fendrup solito nel secondo tempo e Fadi Strootman poi l'ha capito Girardino e l'ha tolto però Fendrup quindi il giocatore il cursore centrocampo il catturatore di palloni Badel il regista e Messia la fantasia diciamo che mi sembrava mi sembra un centrocampo molto ben ragionato sono d'accordo con te che però negli ultimi minuti si poteva anche inserire Malinoski perché comunque è un giocatore che deve giocare deve giocare perché quando ha giocato comunque ha rifilato anche due golle ha giocato anche bene spiace perché io l'avevo detto all'inizio mi sembra che ci siano tanti trequartisti e magari meno punte poi la situazione è stata che i trequartisti Messia non ha quasi mai giocato e quindi insomma Malinoski non era mai in forma quindi di trequartisti poi se ne è visto poco fammi fare il provocatore che Beppe fammi fare il provocatore che mi viene molto bene ma Gudmundson questo Gudmundson è veramente intoccabile mi ricollego al mio appunto su Malinoski nel senso che tu sei a San Siro in una situazione dove devi rimontare quindi non si parla di un inizio di partita dove gli equilibri sono studiati a tavolino ma in una situazione contingente sei in trasferta devi rimontare un gol qualcosa ti devi inventare allora è veramente una bestemmia togliere magari un Gudmundson negli ultimi quindici minuti o magari pensare di non farlo partire titolare con il Bonza allora sono due cose diverse sul discorso di Gudmundson che non sia più il Gudmundson di qualche settimana fa d'altronde ha tirato la carretta ha segnato nove gol undici se ci vogliamo mettere anche due in Coppa Italia è un giocatore che ha fatto veramente molto bene certo è in un momento non brillantissimo non salta l'uomo non vede magari tante volte l'uomo smarcato e quindi insomma diciamo che non è nel momento migliore abbiamo visto Gudmundson migliore quindi sono d'accordo con te l'ho pensato anch'io che forse Gudmundson negli ultimi quindici minuti poteva uscire e provare qualcos'altro però poi i fatti ti dicono che il Genoa negli ultimi quindici minuti ha giocato molto bene ha messo lì l'Inter alle corde e poteva poteva anche vincere e poteva anche pareggiarla la partita abbiamo avuto occasioni per pareggiarla anche quella di Spence di Spence che ha colpito la palla Bani e dietro c'era Spence c'era Spence più libero forse lì non si sono capiti l'avrei detto in inglese Bani non ha capito scherzi a parte non si sono capiti però comunque però mi è piaciuta molto l'arrabbiatura nel senso che la gente ci tiene perché magari se non ci tiene a sufficienza lì si fa finta di niente invece Spence lo ha proprio guardato male che secondo me è un grandissimo bene per la salute dello spogliatorio ma ha fatto bene perché a un certo momento ci stanno perché come ti dicevo ci sono delle motivazioni degli obiettivi da raggiungere e tutti stanno remando dalla stessa parte siamo o no una città di mare ci chiamano gente di mare no? remano tutti dalla stessa parte quindi io credo che non ci sia un caso o dei casi in Malinoski o altri giocatori che possono risentirsi di questo momento certo Genoa se domenica fa risultato dai questa domenica io sono rimasto a tanti anni fa se sabato sera farà risultato a Marassi contro il Monza di Palladino forse vedremo poi con 36 punti sinceramente non si potrà più parlare io non ne parlo già da tempo di retrocessione però visto che rimangono sempre questi 10 punti e gli altri non si muovono e con 33 forse non ci arriveranno neanche io dico che si può provare si possono provare altre soluzioni anche anche tattiche perché vedi se tu se tu metti Pessina scusa Pessina dall'altra parte se tu metti Gudmusson dietro per dire a a a Retteghi e a a Vitigna devi cambiare devi cambiare devi passare a un 3-4-1-2 e allora degli esterni cosa te ne fai giochi con un centrocampo a due è dimostrato che col centrocampo a due il Genoa ha sempre fatto poco quindi bisogna assolutamente cercare sì potrebbe essere un 4-3-3 però devi devi cambiare devi cambiare anche tatticamente non vedo come puoi giocare con sì togli Gudmusson e chi inserisci Malinoski Beppe la possiamo prendere da mille modi diversi e possiamo trovarci d'accordo o in disaccordo in mille situazioni io focalizzerei la mia il mio prossimo intervento che ti propongo così vedo un Retteghi nettamente più produttivo quando ha al fianco una vera spalla sia esso Ecuban o Vitigna la coppia Gudmusson Retteghi ha grandissima qualità ma secondo me Matteo fatica perché non riesce a giocare di sponda perché Albert è un tuttocampista bravissimo Albert tutto quello che vogliamo però per il gioco di Matteo secondo me un collega di reparto che sia a 10 20 30 metri secondo me innalza nettamente la qualità della sua prestazione Sì io sono d'accordo che vorrei vedere proprio Vitigna a fianco di Retteghi perché Retteghi è in palla però si sta sacrificando in un lavoro incredibile lui deve stare vicino alla rete lui è il classico giocatore che deve stare negli 11 metri è il giocatore Lautaro Martinez capisci del Genoa nel senso che loro sentono la porta sentono l'occasione da gol quindi lui deve stare lì non può tornare sempre a coprire lui deve avere e poi come dici tu giustamente di toccare di sponda secondo me provare su un 3-5-2 con Vitigna e Retteghi potrebbe essere una buona idea col Monza tanto più che il Monza gioca con il 4-2-3-1 è chiaro che loro hanno molta fantasia davanti e anche i giocatori che segnano perché hanno Colpani Pessina Dani Mota lo stesso Diuric Pennellone là davanti comunque loro ce l'hanno l'uomo là davanti anche se il giocatore che mi preoccupa di più sinceramente è Colpani che è un giocatore che ha segnato 7 gol ma c'è una curiosità guarda sai che curiosità vabbè d'altronde siano quasi gli stessi punti la curiosità è che pensa il Monza ha fatto 9 vittorie 9 pareggi 9 sconfitte no? e il Genoa 8-9-10 praticamente una sconfitta in più 28 i gol segnati dal Monza e 34 subiti 29 quelli del Genoa e 33 cioè praticamente si giocano su un gol cioè sono due squadre molto simili nell'andamento di questo campionato pur giocando in maniera diversa è una squadra che può metterti in crisi però ti ripeto col centrocampo a tre il Genoa mi dà molta più fiducia perché loro giocano a due sì è vero che Pessina a volte torna indietro Danimota aiuta Colpani anche lui però spesso diventa una sorta di 4-4-2 ecco 4-4-1-1 perché Pessina dietro a Diurice Colpani o viceversa Colpani aiuta appunto la squadra però ti dico io credo che si potrebbe tentare un 3-5-2 sul sacrificato non lo so si potrebbe anche tentare anche se anche se non ha reso mai molto visto che Vasquez è squalificato si potrebbe tentare ma ha giocato una buona partita Martin si potrebbe tentare Gudmundson sulla fascia sinistra e provare d'altronde è una partita da vincere questa visto che siamo in tema di reparto un cittadini titolare può essere un'ipotesi percorribile guarda visto il De Winter io ti dico che De Winter sta facendo passi da gigante Bani De Winter cittadini Bani De Winter cittadini si oppure potrebbe giocare Vogliacco Bani e De Winter sinistro cioè è l'unico che può fare è quella che ci aspettiamo però magari ci sarai sui cittadini io sono sincero ti posso dire poco perché l'ho visto giocare poco nella Talanta ha giocato un minuto quindi no ma anche in precedenza così ha giocato veramente molto poco però Beppe emotivamente può essere la sua partita perché lui arriva da un ambiente dove non è riuscito a esprimersi di qui la partenza per Genova e sai che queste cose magari influiscono molto su No ma io sono d'accordo con te e poi è anche giusto vederli questi ragazzi No ma io infatti sono d'accordo con te io proverei anche cittadini visto che tutto sommato mancano gli esterni sinistri Martin non può che giocare in quella posizione alta perché comunque a parte che Martin ha messo 15 palloni in mezzo stavolta ha fatto una grande non so se siete d'accordo con me ha fatto una buona un'ottima partita a Milano nonostante le sufficienze striminzite che ho visto appioppargli ma non capisco perché tra l'altro non so se questi che hanno messo questi voti così striminziti si sono accolti che ha cambiato i due esterni Don Fris e Di Marco li ha cambiati perché Di Marco ha avuto una palla gol all'inizio che l'ha sprecata e poi non si è più visto diciamo che sono stati molto bravi i due esterni facciamo i complimenti una volta alla squadra perché io ho sentito i commenti durante la partita sentivo che esisteva solo l'Inter ma quando mai Lautaro Martinez cioè solo l'Inter esatto Lautaro Martinez esatto ditemi Martinez quanti tiri in porta fa con Bani o con De Winter non ha quasi mai tirato lo stesso uno dei motivi d'orgoglio è che teoricamente a Martinez potevi dare un bel senza vuoto a San Siro che praticamente dice tutto ti sottopongo una questione Genoa-Monza vista dal punto di vista di Gilardino e Palladino filosofie calcistiche analogie differenze perché ne sto sentendo di cotte e di crude francamente prima della tua risposta ti dico io ho visto diverse volte il Monza quest'anno e non mi ha mai entusiasmato il suo gioco dall'altra vedo un Gilardino che può guardare dritto negli occhi a livello tecnico il suo collega Palladino allora diciamo che Palladino è diciamo così uscito lo scorso anno aveva una buona squadra perché comunque i Gagliardini i Birindelli i Caldirola i Colpani i Pessina sono tutti i giocatori di grande valore quindi ha saputo comunque fare un ottimo campionato e ha dato un gioco alla sua squadra il 4-2-3-1 che esalta appunto i giocatori che ha però Gilardino secondo me ha qualcosa in più ha qualcosa in più ha qualcosa in più del campione del mondo ha qualcosa in più perché Gilardino riesce sempre a non far giocare le squadre e riesce nei momenti chiave a trovare anche la soluzione vincente perché anche con l'Inter comunque aveva trovato la via le motivazioni e la tattica per per far il suo risultato che alla fine del primo tempo tutti potevano pensare all'imbarcata adesso 2-0 invece ma non è tanto con l'Inter è con tutte le altre partite all'inizio era stato un po' criticato ma è giusto era il suo esordio in Serie A l'abbiamo detto mille volte il 4-1 con la Fiorentina ha fatto passare nel Genoa dal 3-4 o quant'era 3-4-1-2 o 3-4-2-1 è passato praticamente al 3-5-2 ed è stato un 3-5-2 però moderno non è stato perché molte volte qualcuno pensa che il 3-5-2 sia soltanto una 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 tattica difensiva pensa che nella maniera la maniera per difendersi media è il 4-4-2 perché copri tutte tu dividi il campo in due e ognuno prende la sua zona sono 4 quindi il 3-5-2 se fatto bene e poi altronde anche Enzaghi lo fa non è che lo fanno ormai 3-5-2 lo fanno in parecchie squadre esalta molto e tra l'altro quando fai la fase difensiva hai sempre uno che scala e ti aiuta e diventa difesa a 4 o anche diventare 5 in maniera però quello che mi piace di Girardino che legge le partite legge i momenti delle partite cioè sa impostarle bene intanto in più capisce i momenti quando poi magari qualcuno può dire ma ha sbagliato anche dei cambi o cambi tardivi l'abbiamo anche detto prima forse qualche cambio tardivo l'ha fatto nel senso poteva o tardivo o poteva provare qualcos'altro però poi i fatti gli danno ragione a lui se ti devo dire la verità il Monza ha più esperienza ha un'esperienza in più di un anno Palladino aveva già un'esperienza in più di un anno però Girardino è lì a tre punti e da neopromosso ti ripeto è una squadra che secondo me sta facendo meglio del Monza molto meglio ha fermato ha fermato tutti praticamente stava fermando nuovamente l'Inter adesso vedremo poi con la Juventus ma ha comunque fatto risultato con tutte le più forti e negli ultimi tempi sta cogliendo anche risultati con quelle che sono diciamo le squadre che doveva battere escluso Lempoli che non ha vinto comunque in trasferta ha messo sotto Lecce ha messo sotto la Serenitana ha messo sotto l'Udinese insomma i punti li sta facendo quindi io do se dovessi dare un punteggio do nove a Girardino sette e mezzo otto a Palladino nel rispetto della tradizione e nel rispetto della Cabuala non posso esimermi dalla domanda delle cento pistole Genoa-Monza secondo la sfera di Cristallo di Beppe Nuti cosa vedi? vince il Genoa lapidario no no vince il Genoa il Genoa sa che questa è una partita molto molto importante non che le altre non lo fossero ma sa che se batte il Monza e conquista l'undicesimo posto può guardare anche ancora con più fiducia e poi comunque al di là di questi discorsi che sono inutili è forte il Genoa è una squadra forte bisogna che la gente se la metta in testa è una squadra che gioca gioca questo discorso trito e ritrito non fa giocare all'avversario non è un catenaccio perché dimentichiamo questa parola non far giocare insomma se la palla ce l'ho io non ce l'hanno gli avversari quando ce l'hanno gli avversari io mi difendo cosa devo fare? quindi il Genoa è una squadra che gioca molto bene e visto come era corta come era corta Milano e visto dove giocavano i difensori sapendo della forza di Sanchez la velocità e di Lautaro giocavano a 20 metri dalla porta li tenevano confidi e fuori dalla possibilità di inserimenti o di tiro o di tiro infatti l'unico se vogliamo c'è stato un errore sul gol sul gol iniziale e quindi c'è stato questo gol c'è stato questo errore non di un giocatore ma di un reparto e si sono infilati subito e hanno fatto gol ecco però dimmi quante parate ha fatto Martinez neanche una neanche una eppure stiamo giocando senza quello che doveva essere il giocatore più importante del Genoa in difesa Dragosin stiamo giocando con un ragazzo De Winter con un eterno giovane che è Bani perché è fortissimo veramente Bani e stiamo giocando con un Vasquez che non solo si permette di marcare ma si permette anche di fare dei gol e prendere dei pali prendere dei pali e mi spiace molto la sua mancanza proprio contro il Monza perché funzionava funzionava tutto vince vince il Genoa ne sono convinto ne sono convinto siamo in chiusura naturalmente grazie a Beppe Nuti è sempre un piacere sentire parlare di calcio ringrazio anche tutti gli ascoltatori il nostro canale YouTube ha sempre più iscritti e questo devo dire è anche grazie al merito e alla competenza di Beppe grazie Beppe ci sentiamo naturalmente dopo il Monza devo dirsi Carlo anch'io ho avuto molti consensi nel senso che molti stanno seguendo molti stanno seguendo e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che il tuo canale indipendentemente dalla mia presenza che è minima mi sembra che il tuo canale stia andando molto bene e mi fa piacere mi fa piacere perché state lavorando bene tu e Laura e quindi sono contento ecco sono contento per te perché è l'anno giusto è l'anno giusto e poi avere nella tua squadra un box to box come Beppe Nuti a tutto campo senz'altro fa molto gioco e migliora anche la qualità del nostro servizio grazie a tutti l'hai detto te l'ho detto io sono molto sereno su Genoa Monza sono un po' meno sereno per Juventus Genoa ma di questo avremo modo di parlare nella prossima settimana abbi fiducia anche su quella partita ciao Carlo permette di dire Forza Feliciani che è l'arbitro di Monza Genoa avrà qualche occhio addosso e noi facciamo il tifo per lui facciamoli in bocca al lupo anche a lui ne ha bisogno ne ha bisogno ti metto una mano sulla coscienza ok a presto d'accordo ciao grazie ciao 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 ciao